Ciao a tutti, sono Roxy e questo sarà un video molto speciale Roxy 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 Appena ho raggiunto i 50.000 iscritti mi è venuta la voglia di fare una live per voi solamente che non sapevo dove su YouNow, Periscope, Meerkat adesso ci sono milioni di applicazioni per fare delle live poi ho avuto la geniale idea di provarle tutte quindi in questo video proverò tutte le app per fare live che ho trovato quindi Periscope, Meerkat, YouNow e anche Youtube e non ho mai fatto nessuna live quindi sto testando tutto per la prima volta non so ancora come riuscirò a gestire la faccenda linguistica quindi come farò con le lingue però ho deciso che improvviserò se mi chiedete una cosa in inglese parlerò in inglese poi cambio, 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 cambio speriamo bene questa cosa potrebbe essere un completo disastro e iniziamo! ok ah! sono emozionatissima però non so come si fa, aspetta eh non mi vedo a me, vedo lì spero che posso girare la chat dopo ciao! è la prima live! mi vedete? mi sentite? di dove siete? così capisco che lingua devo parlare Napoli, Brindisi, Sicilia parlo italiano Roma, Svizzera, Texas Emilia Romagna, Salerno California, Espagna Columbia, Tennessee Mexico, awesome allora cambio lingua ogni volta che mi chiedete qualcosa in inglese parlo in inglese se mi chiedete qualcosa in italiano parlo in italiano se mi chiedete qualcosa in spagnolo parlo in spagnolo ciao Nicole! Roxy ormai non esco la sera per vedere i tuoi video, ti adoro ti adoro anch'io! mi saluti ciao Sergio ciao Sofia ah non l'ho detto in italiano allora questa live è tipo inception perché sto filmando il tutto e questo sarà un video chiamato Roxy testa applicazioni per fare live non ho mai fatto una live quindi sarà un macello saremo qua per 15 minuti poi andiamo su MirCut poi andiamo su YouNow e poi andiamo su YouTube fatemi domande ma se io faccio così escono i cuori? no non leggo più pure io vi voglio mandare i cuoricini ben preferita la musica mi piace tutta quindi è difficile mi piacciono un sacco i the script ciao ariana o arianna che carina vanno via troppo in fretta io vi amo troppo grazie miss mysticfall per esserti iscritta a periscope ciao è andato via ti saluto se me lo riscrivi disegno in live che disegno? una penna ce l'ho una penna un panda ok vediamo che succede com'è un panda? sa che è così this is the panda this is me this is totoro le ultime domande e poi vado su MirCut dove sarò da sola però visto che devo testare queste app la testerò comunque periscope mi piace un sacco è proprio carina quest'app quindi farò oltre live senza tutta la registrazione se faccio qualcosa di interessante magari vado live ok basta come va con l'ocarina? l'ocarina è troppo carina ragazzi dovete dovete comprarvi un'ocarina compratevi un'ocarina seguitemi su vine e iniziamo a collaborare ci fa sentire qualcosa andiamo su MirCut se non ci vado più come si chiude però mica lo so swipe down to stop ok periscope è troppo figo e 10 su 10 e pensavo che sarebbe stato molto più difficile cambiare lingue invece magicamente ci riesco in fretta andiamo su MirCut stream ciao hi hola ok ti stalkerò bravissimi l'avete mai usata questa app? io non so usarla ok siamo in tre fantastico siete tutti e due italiani? where are you from? di dove siete? ciao quindi siete tutti e due italiani perfetto ok venite dai siamo in tre ok è tipo periscope qua non ci sono i cuori però parliamo di cose serie ah vedi adesso siamo 13 ah pensavo che saremmo stati in zero e qua lì dobbiamo scrivere i cuori però la cosa bella di questa chat è che posso scrivere anch'io che vuol dire restreamed? stavo dicendo che no non so l'arabo so solo tre lingue mia mamma parla 5 quindi lei è avanti che vuol dire che ci sono 80 persone e 20 sono qui ok andiamo su you now grazie a tutti per essere venuti qui su MirCut che è molto carino anzi e ci vediamo su you now per 15 minuti ciao andiamo su you now per 15 minuti e poi su youtube ciao ok MirCut è carino mi piace di più periscope per ora perchè sempre i cuoricini sono troppo carini l'unica cosa è che su MirCut la chat si vede meglio mi avete detto anche voi che la vedete meglio i messaggi non scompaiono tipo scorrono quindi forse la chat è meglio e persone che non mi seguono possono vedere la mia live quindi per esempio quel David non mi seguiva però visto che stavo facendo live quindi si è aggiunto diciamo quindi magari per avere nuovi followers o cose del genere è buono MirCut quindi a MirCut gli diamo un 8 un 8 e ora andiamo su you now non so come si fa questa cioè te fanno la foto e non ero pronta arrivavo ok hashtag youtuber tweet ok ciao questa è la mia prima live in you now non mi vedi più si è bloccato eh non me ti è blocca però quindi qua vedo la chat a metà schermo e poi mi vedo a me tipo da una parte non mi vedo benissimo però va bene almeno vi leggo tutta la chat canta una canzone ma io non so cantare ragazzi cioè vi vengono gli incubi altre domandine? che canzone volete che canti? non saprei non saprei neanche che cantare si blocca questo you now non ci siamo perchè si blocca? cantiamo stitches la metto ok allora you now è figo perchè posso posso mettere la chat posso mettere la chat al lato e quindi vedo sempre i messaggi non spariscono non scorrono eccetera però voi mi avete detto che si blocca a me non si blocca però se vi si blocca non va bene quindi gli diamo sette su dieci e ora su youtube ok allora apro youtube non so come si fa questa cosa però apro una pagina di youtube dove non sono log in e vado sul mio canale così vedo che cosa sta succedendo poi vado sul mio canale invece video channel live streaming live events create a live event my first live forse mi metto un po' di cipria cioè youtube è il peggio di tutti live events questo ci mettiamo di più perchè dobbiamo mettere la descrizione ok entro in google cioè devo pure installare qualcosa aiuto avvio in corso hello 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 vi vedete? qualcuno mi vede? vediamo se ci sono i commenti è la mia prima live non riesco a leggere niente aspettate oddio che succede ho letto qualcosa oh oh è andato via aspettate 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 ok mi saluti ciao rocket sarah stai leggendo qualche libro? quali libri hai intenzione di leggere? in realtà ne ho iniziati troppi e non li riesco a finire devo finire the maze runner devo finire la saga di fallen era fallen? mi parete si devo ne ho iniziato un altro non me lo ricordo che serie tv stai vedendo al momento? ho scoperto ho scoperto unreal ciao milky sailor moon sailor moon sailor moon non era quella stavo cantando sailor moon con robin hood tipo sailor moon sailor moon sailor moon tu fai sempre breccia la seda l'arco scocchia una freccia aiutatemi ragazzi ho fame beviamo più caffè quanti di voi suonano qualcosa? suonate lo carina? cioè ragazzi dovete suonare lo carina quella è cioè è patrimonio nazionale italiano cioè l'hanno inventata in italia ragazzi che volete che vi suono? ditemi qualcosa grazie mille per essere stati con me in questa live e anche nelle altre app se ci siete stati ci vediamo al prossimo video ciao ciao mua 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 adesso devo capire come si chiude questa cosa perché mica lo so la live di youtube è un po' complicata da impostare però funziona bene sono riuscita a vedere i commenti e tutto quindi gli do 9 su 10 dai ci sta fatemi sapere quale vi è piaciuta di più spero che questo video vi sia piaciuto e che vi siete divertiti nelle mie live se avete partecipato fatemi sapere nei commenti se volete che io faccia altre live e dove io faccio un nuovo video ogni domenica e giovedì e non dimenticatevi di iscrivervi al canale mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i nostri amici e noi ci vediamo alla prossima ciao mua ari ciao grazie per essere arrivati fino alla fine 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 qui vi lascio altri due video i vostri tweet sono qui sotto come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet e vi mando tantissimi bacini e un abbraccio virtuale uh qui succederà prestissimo qualcosa sono super emozionata nei commenti potete provare a indovinare e noi ci vediamo alla prossima ciao mua ciao ciao ciao